seconda opera su cui invece voglio adesso per fermarmi è il segreto del teatro no di zami motokyo opera del grandissimo studioso di cultura giapponese francese che a rene si ferro il più grande sicuramente uno dei più grandi studiosi francesi attivi tra la a cavallo tra la prima e la seconda metà del novecento lui insegnò per tantissimi anni all'istituto nazionale di lingue e civiltà orientali di nalco di parigi ed è stato anche il cofondatore insieme alla moglie della casa editrice universitaria pubblicassi una fatta l'isle france pof comodamente nota come pof e soggiornò diversi anni lui in giappone come direttore della casa franco giapponese e nel corso della sua carriera lunga carriera ha sciencato diciamo un'intensa attività di studioso di critico ma anche soprattutto di traduttore rene si ferro infatti oggi è così noto a chi si occupa di letteratura giapponese come un grandissimo traduttore di opere letterari del giappone soprattutto di letteratura premoderna anche se ha tradotto anche delle opere per esempio di asunari kawabata o di tanizaki junichiro alla sua attività di traduttore sicuramente è incentrata su la letteratura del periodo classico classico e premoderno dove per premoderno intendo edo quindi tra tante opere che ha tradotto ricordo il racconto della dell'era hogan e lo heike monogatari il genji monogatari le storie di yamato il diario di dosa la traduzione integrale del maio e quattro ben quattro volumi dedicati alla presentazione alla traduzione di opere teatrali dice kamatsu monse amont quindi una figura di spicco assoluta in questo volume il segreto del teatro no rene si fer affianca quindi questa sua passione per la traduzione lo studio la ricerca creando un volume in cui traspare appieno la sua abilità di traduttore traducendo sei trattati della tradizione segreta del teatro notti zeami e e traducendo poi sei la diciamo riproducendo in traduzione lo svolgimento di una tipica giornata di rappresentazione di teatro no quindi che prevedeva il susseguirsi di cinque drammi e quattro occhio ogen e questa doppia natura diciamo di traduttore e studioso diciamo è come come dire fa da contraltare alla doppia natura di zeami cioè quello di teorico e quindi autore dei trattati che rené si fer traduce in francese e quello di attore quindi partecipatore attivo partecipante attivo attore in presente all'interno dei drammi che lui presenta i trattati di zeami risalgono tutti diciamo alla prima metà del quindicesimo secolo e rimasero diciamo a lungo ignoti che vennero riscoperti appunto agli inizi del 1900 dalla dagli sforzi congiunti di filologi e collezionisti di manoscritti e a seconda appunto dei codici e delle edizioni critiche diverso il numero di trattati a lui ascrivibili ma in questa in questa opera rené si fer ne presenta solo sei quindi il numero dei trattati di zami è variabile da 16 23 o anche più lui ne presenta sei che sono il fushikaden del trasmettersi del fiore dell'interpretazione il shikado show il libro della via che conduce al fiore il nikyo kusanta e zu studio illustrato dei due elementi e dei tre tipi il kakio lo specchio del fiore lo yuga sudo ken pusho il libro dello studio dell'effetto visivo dei divertimenti musicali e per ultimo il chiusci dai la scala dei nove gradi e poi abbiamo la parte quindi questa prima parte che rappresenta diciamo tre quarti forse dell'opera forse diciamo è più interessante più attrattiva per lo studioso di letteratura giapponese il teatro giapponese da non dimenticare invece l'importantissima selezione di drammi da lui operata che conclude questa questo suo lavoro e che appunto prevede la traduzione di sei drammi no e di di cinque drammi no che di quattro fiore tra i dammi i drammi no da lui selezionati e scelti sono i wafone la barca di pietra sanemori sanemori yoga o il personaggio del gengio monogatari simi maru personaggio mitico di cui ci parla il congiac monogatari e il se shoseki la pietra che uccide in questa diciamo successione di cinque drammi no che ne si fa riproduce con esattezza le caratteristiche le tipologie di drammi che vengono inserite all'interno di una rappresentazione tipica di giornata no per cui i wafone rientra nella categoria di drammi ben auguranti leggeri che però appunto servono per attrarre l'attenzione dello spettatore e prepararlo alla piena godibilità fruibilità appunto dei dei drammi che seguiranno il secondo dramma sanemori invece rappresenta il t1 appunto come tipologia la tipologia dei drammi incentrati sugli ashera quindi guerrieri morti nel campo di battaglia che ri appaiono a un monaco grazie alle cui preghiere loro rivivono con estrema drammaticità la vicenda che hanno li hanno portati a morire appunto il terzo jugo sono le opere di donne in cui appunto vengono delineate le tappe sempre che hanno caratterizzato la vita di importanti o figure femminili del passato oppure personaggi della della tradizione letteraria e yugo appunto appartiene estrapolato da questa seconda tipologia di ritratti femminili perché è una delle protagoniste del genji monogatari poi abbiamo semi maru che invece rappresenta appunto diciamo cambia non più rappresentazioni di sogni di visioni oniriche ma fatti reali e qui vengono in genere rappresentate le vicende che riguardano personaggi storici che poi vengono anche tramandati all'interno delle opere letterarie ma come in questo caso anche di personaggi non reali cioè non realmente vissuti e l'ultima parte del l'ultimo dramma che viene rappresentato il se show sei chi sono i drammi appunto di demoni quelli che vengono sempre posti alla fine di un'opera di una giornata di di drammi e la successione di queste diverse tipologie di drammi rappresenta a perfezione la diciamo il principio del gio ha chiù quindi introduzione il preludio lo sviluppo e poi un finale agitato il segreto del teatro no il cui titolo francese era leggermente diverso perché era la tradizione segreti di uno sui video giorni di uno quindi non è tanto il segreto del teatro no ma la tradizione segreta quindi con esplicito riferimento a questi trattati che zeame scrisse non per essere divulgati ma per essere diciamo trasmessi da un capo della famiglia canse al successivo quindi segreti in questo senso che non potevano essere divulgati ma erano dei trattati che il capo della famiglia canse trasmetteva al suo successore affinché potesse diciamo trasmettere agli attori che facevano parte della compagnia le competenze necessarie per poter diventare un buon attore di teatro grazie a tutti